con grande piacere torno a parlare con paolo borgognone scrittore ciao ben trovato paolo ciao beatrice grazie per l'invito e ciao a tutti quelli che ci seguono allora con paolo borgognone torniamo su argomenti di attualità naturalmente oramai insomma sembra essere stato sdoganato purtroppo il green pass e quindi è diventata già una situazione che ci portiamo dietro quotidianamente sicuramente le proteste si fanno sentire ma non sono sufficienti per lo meno fino ad ora non lo sono state per poter far cambiare la situazione io volevo parlare con te inquadrare un po questo fenomeno cominciando proprio dai luoghi cioè i porti il porto di trieste che è stato veramente no come dire il nostro primo baluardo e voglio capire tramite te che senso ha partire proprio da lì beh le categorie che sono state interessate da questi da questi movimenti di protesta sono tantissime tantissime però è chiaro che portuali e autotrasportatori sono quelli che se entrano in sciopero hanno un potere di così negoziale diciamo ecco da questo punto di vista di una volta si sarebbe definito potere negoziale comunque potere di fermare quelle che sono le attività gli approvvigionamenti cosiddetti essenziali molto più alto rispetto al fatto che se entra in sciopero un poeta ecco per cui è più un pittore per cui è a meno che non stia facendo la cappella sistina allora vabbè c'è un problema anche di così di organizzazione in quel caso e di unicità ma chiaramente un lavoratore meramente intellettuale ha un impatto minore se entra in sciopero rispetto a un lavoratore dei settori della della logistica e di settori dell'autotrasporto del trasporto ecco settori essenziali per cui è chiaro che la protesta e lo sciopero del degli autotrasportatori piuttosto che dei portuali ha anche a livello politico a livello sociale a livello mediatico un impatto una visibilità diversa e maggiore rispetto alla protesta appunto di settori meno coinvolti nella in quelle che sono gli approvvigionamenti la logistica eccetera io credo che poi ci sia anche un altro fattore chiaramente all'interno di queste categorie c'è un nucleo più ampio di cittadini che non hanno il green pass per cui è chiaro che queste sono categorie che hanno avuto più possibilità anche di inscenare una protesta in quanto più numerose rispetto magari ad altre che invece si sono vaccinate in percentuali in percentuali maggiore ma anche interessante il fatto che perché riguarda i portuali soprattutto vi sia stato e vi sia tuttora poi anche vabbè ci sono delle polemiche in loco ci sono tutti i movimenti sono attraversati da polemiche interne io le vedo come questioni fisiologiche ormai non mi fanno neanche più scalpitare queste cose vedo queste polemiche interne come qualcosa che è destinato a riassorbirsi o è destinato comunque a provocare spaccature che poi si ricomporranno non mi interessa neanche più questo discorso tant'è vero che la politica italiana soprattutto quella così una volta si sarebbe definita la micropolitica quella che non riguarda i movimenti e i partiti di dimensioni di massa con un'organizzazione una struttura interna ben riconoscibile eccetera sono attraversati da divisioni di ogni tipo c'è stato però all'interno di questo movimento una grande solidarietà magari c'erano delle divisioni rispetto a determinate tematiche e modalità di azione però una solidarietà che ha fatto sì che anche coloro i quali si erano vaccinati e dunque avevano il green pass si andassero poi a schierare con i colleghi con i compagni di lotta senza green pass per cui ma questo è tipico di lavoratori soggetti a fatica fisica notevole a una stretta prossimità nel luogo di lavoro è molto molto significativo tutto questo ed è comprensibile alla luce del fatto che ci siano ancora comunque nel paese importanti segmenti di società che non hanno abdicato a quella che è la solidarietà interna una logica anche legata molto alle dinamiche di classe alla lotta di classe eccetera per cui questo è il portato di un imprinting profondo all'interno alla categoria dei portuali Senti ti parlavo del porto di Trieste in primo luogo perché sul porto di Trieste sono state spese un sacco di parole proprio a livello politico e anche per questi rapporti internazionali insomma c'è in mezzo la Germania, la Cina è veramente così tanto importante questo porto da un punto di vista geopolitico? Beh sì la logistica d'Europa passa tutta praticamente da lì per cui sì è importantissimo ed è chiaro che gli attori internazionali coinvolti nel transito delle merci da quel porto abbiano tutto l'interesse a che quel porto sia aperto funzionante a 360 gradi ecco per cui non c'è alcun interesse rispetto al fatto che l'attività di quel porto venga manomessa da scioperi da proteste o da eventi di questo tipo per cui chiaramente l'ordine di sgombrare il presidio è arrivato dal ministero dell'interno per dimostrare che il governo italiano usa il pugno di ferro contro i renitenti dopo quello che era accaduto a Roma il 9 ottobre con le gravi inadempienze diciamo così del ministero dell'interno e con i pesanti sospetti non del tutto illegittimi che ci sia stata anche una complicità tra le parti in causa per arrivare a quel tipo di messa in scena per cui c'era stata un pesante sospetto di strategia della tensione dietro a questo tipo di dinamica che si era verificata a Roma il 9 ottobre un sospetto più che legittimo tanto che io ho definito questa strategia della tensione 2.0 strategia del movimento ondulatorio viste anche le le simpatiche ma poco credibili dichiarazioni in parlamento del ministero dell'interno rispetto a certe accuse di infiltrazione comunque è chiaro il ministero dell'interno a trieste ha voluto dare una una prova di forza allo stesso tempo sicuramente gli attori internazionali coinvolti in quel tipo di di dinamica economica non hanno diciamo così sgradito questa svolta autoritaria perché il business fa muovere tutto e questo vale anche per quel che riguarda l'attività dei portuali di sicuro per un governo che rimanendo alle dinamiche interne per un governo che non fa altro che ripetere 24 ore su 24 a reti unificate che la tutela della salute collettiva è il principale obiettivo da perseguire ed è l'obiettivo di tutti e chi si sottrae dal perseguimento di questo obiettivo è un criminale ecco per un governo che parla così poi innaffiare con idranti di acqua gelata in pieno ottobre persone anziane bambini seduti pacificamente ecco non è il massimo della coerenza non stupiamoci se poi qualcuno di quei manifestanti presi di mira con gli idranti di acqua gelata ad alta pressione ecco ha sviluppato qualche sintomo influenzale probabilmente influenza però qualche sintomo influenzale potrebbe essere qualunque potrebbe essere anche una polmonite comuni potrebbe essere diciamo così la polmonite che ha avuto sassoli ecco ma senti una polmonite alla sassoli può essere la diretta causa di un gavettone di quel tipo ecco sì sì se lo vogliamo chiamare gavettone anche io ho pensato a questo risvolto effettivamente cioè non ci si fa caso o comunque è proprio quello che si vuole fare in maniera diretta ed autoritaria assolutamente ti fanno il bagno gelato, ti fanno la doccia fredda ad ottobre poi adesso a parte il lato così qua siamo sempre in situazioni tragicomiche questo è il lato fondamentalmente così più comico, il lato tragico è che appunto il governo con un'azione di forza ha voluto utilizzare far vedere i muscoli per tentare di rimediare a quella figura poco edificante che aveva fatto una settimana prima a Roma e soprattutto a rimediare al fatto che era stato scoperto, cioè il governo era stato scoperto, il mistero dell'interno era stato smascherato nei suoi intenti di attivare una contrapposizione fittizia basata sulla strategia dell'infiltrazione e per cui ha rimediato una figura di merda colossale e a questa figura così palesemente ignominiosa ha cercato di far fronte facendo vedere che si tratta di un governo che non ha scrupolo così, non ha esitazioni nell'usare la forza quando decide di arrivare a un risultato, chiaramente con tutto quello che ne è conseguito sul piano anche dei diritti umani, è visto che si parla sempre di diritti umani Certamente, la cosa che mi ha sconvolto e l'ho già detto in altre circostanze è che anche alcuni onorevoli e quindi insomma persone che sono in Parlamento che dovrebbero avere a cuore la nostra tutela, i nostri diritti Beh, insomma hanno un linguaggio aspro, duro, incattivito e un po' questo mi fa pensare che è esattamente quello che anche l'Italia stessa sia diventata per certi aspetti, laddove ci sono per esempio movimenti pro Green Pass che si contrappongono a quelli no Green Pass e anche persone che insultano ristoratori, imprenditori che insultano i manifestanti dicendo che basta, è ora di ripartire quindi ancora una volta si assiste forse ancora più marcatamente rispetto al passato, ai mesi scorsi a quella che è una divisione tra i cittadini stessi, trovi? E' questo perché gli idranti vengono utilizzati sui soggetti sbagliati e qui non è che sia contro gli idranti to cure, perché non sono né un gandiano né uno che pensa che la violenza debba essere appaltata e così delegata soltanto alle classi dominanti e loro possono usarla ma gli altri non possono rispondere per cui gli idranti vengono usati in sé per sé strumento neutro, vengono utilizzati contro soggetti sbagliati dovrebbero essere rivolti contro chi ha varato norme discriminatorie ecco un bel bagno gelato a chi vara norme discriminatorie, a chi in Parlamento le vota soprattutto a chi in Parlamento le vota dopo aver però sbraitato sui media di essere contrario chi ha sbraitato la sua contrarietà sui media per accaparrarsi qualche voto di protesta e poi però vota tutto, accetta tutto, si piega, dovrebbe ricevere una doppia dose d'acqua gelata un doppio gavettone magari nei mesi ancora più freddi di quelli odierni perché è inconcepibile allora se tu sei pro sei un avversario leale, se sei contro stai dalla mia parte ma non puoi dirti contro a parole e poi nei fatti votare a favore vanno anche tenute a presente alcune dinamiche però va detto che se la Lega avesse fatto cadere il governo e questo Salvini lo sa e bisogna tenere presente tutto era già stato detto, era già stato avvertito Salvini, la Lega e il Paese soprattutto perché poi di Salvini e della Lega me ne frega fino a un certo punto ma il Paese era già stato avvertito da Marcello Sorgi sulla stampa ad agosto del 2021 che se la Lega avesse fatto cadere il governo si sarebbe insediato al posto del governo attuale un governo Draghi trattino militari cioè una giunta militare che avrebbe messo il Green Pass anche per andare al gabinetto e che avrebbe di fatto utilizzato una mano ancora più dura dagli idranti si sarebbe passati al manganello e probabilmente anche a qualche proiettile di gomma contro i manifestanti e contro i dissidenti per cui l'alternativa a questo governo e ci era già stato detto ad agosto dell'anno scorso scusa, l'agosto di quest'anno è il governo militare, è un regime militare in stile Pinochet o in stile colonnelli greci è proprio questa la domanda che ti stavo per fare cioè tanta gente sostiene che il prossimo step in una sorta di agenda che prosegue è proprio quello di una militarizzazione del Paese sei d'accordo? sì è già militarizzato allora gli step saranno questi sono già militarizzati i media è già militarizzata la società con il Green Pass è chiaramente militarizzata la società i media parlano una voce solo ogni tanto fanno uscire due parole di contrapunto ma sono sempre uno contro venticinque in trasmissione quando si fa il dibattito per cui uno contro venticinque non è un dibattito è un pungible quell'uno basta per cui gli step sono questi uno togliere i tamponi dal carnet delle opzioni per avere il Green Pass Green Pass solo per vaccinati e per guariti ciò aprirebbe anche un conflitto di legittimità perché l'obbligo vaccinale diventerebbe poi stabilito perché se non ti vaccini non puoi più andare a lavorare e non hai più la tra virgolette alternativa a pagamento sottolineo tra virgolette e sottolineo a pagamento dei tamponi l'obbligo diventa un fatto e non lo stabilisci di diritto solo perché non puoi non ci riesci non hai numeri in Parlamento ci sono troppi problemi dal punto di vista costituzionale eccetera ma di fatto lo introduci però il farmaco è sperimentale ancora infatti per quello introdurre l'obbligo esteso tramite una legge del Parlamento è problematico per questo si è arrivati al Green Pass ma la prossima tappa sarà probabilmente quella di abolire i tamponi non dire Green Pass solo per vaccinati e per guariti poi la tappa successiva potrebbe essere quella del lockdown solo per i non vaccinati cioè i non vaccinati nel caso in cui si arrivasse in una determinata regione alla zona rossa cioè al 30% delle terapie intensive occupate i non vaccinati saranno chiusi in casa messi agli arresti domiciliari questo è lo step successivo il terzo step potrebbe essere il confinamento non domiciliare dei non vaccinati e lascio intendere a chi ha orecchie per intendere e infine ovviamente si potrebbe arrivare ma già col confinamento non domiciliare non dico di tutti i non vaccinati per lo meno di quelli che sono perché poi alla fine così chiudere in un centro di confinamento in una zona di contenimento chiamiamola così se non vogliamo proprio definirla campo di concentramento milioni di persone non è facile ma si possono chiudere per lo meno i personaggi più esposti del movimento o no green pass per decapitare il movimento si può arrivare a questo tipo di ragionamento e poi naturalmente si può arrivare ad uno stato di emergenza che diventa stato d'eccezione e addirittura stato di prevenzione cioè io introduco uno stato di emergenza permanente cioè ogni due anni creo un'emergenza nuova per poter istituire uno stato di emergenza nuovo sulla base di un'emergenza che dovrà avvenire come la guerra preventiva siccome Saddam Hussein ha le armi di istruzione di massa noi dobbiamo fargli la guerra prima che lui le usi cioè non dopo che lui se le aveva le usa allora noi per reazione gli facciamo la guerra no prima che le usi perché sappiamo che un criminale userà le armi di istruzione di massa poi è venuto fuori che Saddam Hussein non aveva le armi di istruzione di massa ma la guerra gliel'hanno fatta tra l'altro quello della provetta Colin Powell è morto qualche giorno fa Dio lo abbia in gloria e lo introduca lo ammetta tra le schiere dei suoi angeli però dicevo qui si arriva a uno stato di prevenzione no? lo stato di prevenzione è questo per evitare per scongiurare che tra 5 anni tra 2 anni tra 6 mesi possa arrivare un'emergenza ancora più importante di quella che abbiamo vissuto fino a questo momento di quella che è stata narrata fino a questo momento ecco noi introduciamo uno stato di eccezione permanente e questo è il quarto step in questo caso in questo senso le ultime vestigia della democrazia moderna verrebbero soppresse insieme naturalmente ai sostenitori della democrazia moderna cioè verrebbero soppressi tutti coloro i quali dissentono da questa nuova normalità senti in questo scenario distopico che tu hai appena delineato ma tutto il mondo non ha neanche un briciolo di criterio per cui oserebbe ribellarsi a tutto ciò secondo te? in tutto il mondo no in tutto il mondo no negli stati più indebitati e negli stati coloniali se in Italia questo è possibile perché l'Italia non ha alcuna sovranità è un paese che cammina a quattro zampe perché gli dicono di camminare a quattro zampe perché il debito è troppo elevato ed è stato soprattutto troppo elevato chi se ne frega è stato privatizzato può essere anche più elevato di quello che è ma se non viene privatizzato resta un debito con noi stessi un debito pubblico invece nel momento in cui il debito pubblico diventa privato o in parte privato ti possono ricattare con l'arma del debito e per cui ti possono far fare quello che vogliono ti possono far diventare come ha scritto il Washington Post che è il giornale di Jeff Bezos per cui non è il giornale di un complottista è il giornale dell'ex capo di Amazon il laboratorio della nuova normalità poi via via non so se tra 5 6 10 anni ma io non so se gli altri paesi se tutti quanti si adatteranno a questo modello sicuramente l'Italia è oggi il laboratorio ed è un laboratorio in cui si testano un grande stress test sulla popolazione fino a che punto sei disposto ad obbedire adesso è già stata sdoganata la terza dose per tutti questi galantuomini ancora un paio di mesi fa ci dicevano che la terza dose sarebbe stata solo per i soggetti più fragili ma chi ci ha mai creduto tu ci hai creduto che la terza dose era solo per i più fragili io nemmeno un secondo è chiaro che è per tutti perché o per tutti o per nessuno nel momento in cui serve una copertura anticorpale se serve una copertura anticorpale generalizzata non puoi fargli fare la copertura non puoi coprire soltanto un 20% un 10% o tutti o nessuno cioè o fai per scelta o lasci la scelta in ambito individuale come in Svezia come in Danimarca oppure introduci elementi di via via sempre più pressanti per arrivare a una copertura generalizzata se è quello che vuoi ma l'ipocrisia di dirti no la terza dose non la fanno i più giovani la fanno solo i più anziani i più fragili quando sai benissimo che dopo 6 mesi gli anticorpi vengono meno in qualunque soggetto che ha ricevuto il vaccino che abbia 92 anni e sia fragile che ne abbia 25 e sia forte come un toro perché? perché utilizzi questa perché prendi tempo perché non puoi dire tutto in una volta devi dire poco per volta non devi cominciare dicendo che i non possessori di Grand Pass non possono entrare al bar che sarà mai il bar e poi devi arrivare a confinarli in un lager ma non puoi metterli subito nel lager devi poco per volta portarci spingerci lì dentro allora prima gli estrometti dai luoghi della socialità poi gli estrometti dai luoghi di lavoro poi gli estrometti dagli spazi condivisi non puoi più uscire di casa e poi neanche in casa se diventi pericoloso anche in casa perché potresti infettare un parente e allora vai a fare la quarantena a tempo indeterminato in una zona di contenimento e poi dopo la zona di contenimento cosa ci sarà? si arriverà a dire che i non vaccinati non meritano di vivere? lo stanno già dicendo in maniera così un po' più sfumata ma quando si arriva a dire che occorre richiamare in servizio Bava Beccaris per sparare sui manifestanti il problema è che adesso i manifestanti sono tanti adesso ci sono milioni di persone in piazza e con questo si deve fare i conti non è facile portare milioni di persone in un lager piuttosto che chiudere in casa milioni di persone non si fanno chiudere in casa sono milioni e sono sempre di più per cui Bava Beccaris fai un po' più di fatica a richiamarlo in servizio non perché sei buono perché se potessero se fossero nelle condizioni logistiche di farlo avrebbero già fatto sparare su tutti ma perché non ce la fai perché sono troppi perché devi fare una strage per ripristinare l'ordine con le maniere forti non ti basta l'idrante questa volta perché in piazza ci sono milioni di persone l'idrante fa fino a un certo punto per cui bisogna tenere presente questo fatto che il 23 ottobre del 2021 sono scese in piazza in tutta Italia sottoscritto compreso milioni di persone e continueranno a farlo in più si sta creando questo interessante una convergenza che pareva pareva impossibile ecco soprattutto nel discorso mediatico che polarizza tutto ma invece così è questa convergenza esiste tra vaccinati e non vaccinati con valori comuni che si stanno incontrando che stanno partecipando alle proteste alle manifestazioni e che sono contro il Green Pass dunque anche persone vaccinate che dicono non voglio che la mia vita diventi dipendente da una somministrazione farmacologica perché qui si sta arrivando piano piano a introdurre diversi le finestre di Overton spalancare le varie finestre la terza dose per tutti e già un'altra finestra di Overton spalancata ad agosto ci dicevano appunto che non sarebbe stata se non per i più fragili adesso è già per tutti ora l'altra finestra di Overton spalancata qual è? la dipendenza dal farmaco tu potrai avere la tua libertà condizionata naturalmente il tuo QR code stampato in fronte potrai dunque essere come una merce di quarta scelta del discount perché la scadenza del QR code la decidiamo noi in base a quanto sarai disposta o disposto a diventare dipendente da una somministrazione farmacologica ogni sei mesi ogni anno ma questo è da stabilirsi però se tu non sarai dipendente non accetterai la dipendenza e rifiuterai la somministrazione ti verrà revocato il prezioso lascia passare dunque ti verrà strappato il QR code dalla fronte sarai un prodotto scaduto l'uomo a scadenza sarai un prodotto scaduto e dunque sarai un prodotto inutilizzabile verrai nuovamente confinato e chiuso in casa o chiuso in qualche altro luogo di quarantena comunque non sarai più spendibile sul mercato nella società di mercato perché noi ormai siamo dei prodotti di bassissima qualità di infima scelta legati a un QR code che ogni tot mesi scade esattamente come il formaggio lo yogurt eccetera eccetera senti Paolo l'ultima cosa tu sei anche uno storico naturalmente questa situazione se veramente come dici tu richiama tanta gente i manifestanti sono sempre di più potrebbe delinearsi forse come la prima rivoluzione che gli italiani riescono a fare da soli senza l'appoggio di nessun altro agente esterno sicuramente senza l'appoggio di nessun altro agente esterno sì perché siamo completamente soli e sguarniti sotto questo versante ed è anche un grosso limite questo dico subito perché le rivoluzioni funzionano quando c'è una grande massa critica che riesce ad allearsi con un settore specifico di elite di elite controcorrente e poi ha dei riferimenti esterni che aiutano tutto quanto qui non c'è praticamente a parte la massa critica che si sta formando ora c'è poco da poco altro però abbiamo avuto già un grande risultato ci siamo riusciti a interrompere e a invertire il corso della storia che pareva in questo paese orientato verso un riflusso permanente un disimpegno permanente è tornato l'impegno collettivo è tornata la sensibilità collettiva è tornata l'intelligenza collettiva dunque si è già scritta una pagina di storia e questo è il movimento di resistenza ed è il movimento popolare più esteso più partecipato e più consapevole della storia d'Italia dal dopoguerra ad oggi per cui sicuramente una pagina di storia è già stata scritta bisognerà scriverne altre dico che la situazione potrà evolversi a seconda naturalmente di come questo movimento riuscirà a strutturarsi a mantenere un'unità di fondo e a capire e a capire che la battaglia politica che sta conducendo non è un qualcosa di contingente di momentaneo contro una scocciatura del periodo bensì deve essere un movimento che porta a una battaglia di lungo periodo a una prospettiva politica di lungo periodo per evitare nuove cadute in condizioni di riflusso che poi non sono altro che funzionali a lasciare mano libera alle classi dominanti per introdurre leggi e stati di fatto chiaramente antipopolari questo secondo me è importante capire che questo è un movimento politico che deve essere fatto per durare fatto per avere una prospettiva ancora più inclusiva e naturalmente partecipata di quello che è oggi una prospettiva anche una prospettiva di assunzione di ulteriore consapevolezza dunque e di strutturazione in un soggetto politico che possa essere incisivo anche sul piano di lotte e rivendicazioni che non sono solo quelle contro il Green Pass perché il Green Pass è il sintomo di una malattia ben più seria il sintomo è il Green Pass la malattia è il neoliberismo se si combatte la malattia e si estirpa la malattia naturalmente viene meno anche il sintomo sicuramente c'è tutto un tentativo poi anche nei media di destabilizzare questo movimento di creare confusione perché anche la narrazione è sempre più cacofonica sempre più confusionaria e a mio parere è anche fatta un po' apposta per depistare per confondere perché un giorno un virologo ti dice che la terza dose va fatta solo per i soggetti più fragili e non per i giovani il giorno dopo un suo collega dice che no va fatta per tutti e che dobbiamo diventare dipendenti dal vaccino un giorno si dice che un virologo dice che il Green Pass sarà abolito a dicembre il giorno dopo il suo collega ti dice che durerà anni poi un'altra volta un determinato esponente di questa casta oligarchica pseudoscientifica ti dice che siamo ormai in ambienti sicuri e il distanziamento è giusto che venga meno ma il suo collega obietta dieci minuti dopo che se qualcuno gli dà la mano lui la schiva per evitare di contagiarsi come il mega direttore Piermatteo Barambani a Fantozzi a Fantozzi dà la mano quello non gliela dava non dà mano mi scusi Sire non dà mano siamo arrivati proprio a questo punto chissà se dà arresto perché a Fantozzi non davano arresto che è ben più grave che non dar la mano do 50.000 lire per un sacchettino da viaggio del treno non dà arresto chissà se pregliasco dà arresto non dà la mano spero che di arresto ecco almeno quello però dico che vediamo giornali di cui a pagina 2 in cui a pagina 2 c'è scritto che andiamo verso la fine dell'emergenza della pandemia e a pagina 8 si dice che l'emergenza durerà anni lo stesso quotidiano intervista a pagina 2 un tizio che ci rassicura e a pagina 8 quello che suscita allarme per cui questa narrazione è così confusionaria è basata su input contraddittori è una narrazione prettamente contraddittoria a mio parere è fatta apposta per destabilizzare ulteriormente le persone a livello psicologico per disaggregare i movimenti mentre invece noi abbiamo bisogno di un'ulteriore spinta aggregativa ah certo che non è una forma 2.0 di pluralismo questo è sicuro io ho letto sul Corriere della Sera mi sembra il Corriere della Sera un'intervista a pagina 2 a Walter Ricciardi che diceva che la pandemia sarebbe durata ancora anni che bisognava dare il Green Pass solo ai vaccinati o ai guariti e a pagina 8 l'intervista a un altro immunologo che si chiama Francesco Lefoche che diceva che invece la normalità old style è dietro l'angolo mettetevi d'accordo mettetevi d'accordo siamo agli albori di una pandemia infinita o siamo agli albori del ritorno a una vita così pre 2020 però perché se lavorate nello stesso team e avete queste idee diametralmente opposte c'è una schizofrenia all'interno di quel team mettetevi d'accordo e raggiungete un punto di sintesi oppure se siete in disaccordo totale beh ditecelo e soprattutto diteci guardate non sappiamo neanche cosa sta succedendo perché quando si raggiungono polarizzazioni così estreme di disaccordo su una tematica unica e si lavora nello stesso team e allora almeno abbiate l'onestà intellettuale e dire guardate noi non sappiamo né cosa stiamo dicendo né cosa sta succedendo siamo talmente in disaccordo che ognuno spara la sua non fidatevi di nessuno e vedrete quello che sarà giorno per giorno ma non ce lo dicono ci dicono che dobbiamo credere alla scienza bene ma qual è la scienza quella che ci dice che siamo agli albori della pandemia infinita oppure quella che ci dice che siamo sulla soglia del ritorno alla normalità pre 2020 qual è la scienza quella che dice che siamo alla follia però questa non è contemplata mi sembra come opzione comunque grazie Paolo di tutte quante queste riflessioni che sono sempre molto contenta di poter fare con te quindi ti aspetto ancora qui con me presto grazie a Paolo Borgognone ciao grazie a te e un saluto a tutti iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione ti aspetto con le mie interviste su Davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.